Ciao a tutti, bentrovati per questa nuova mini video recensione. Oggi parliamo di un cofanetto uscito da poco per Azzura Music, un cofanetto che farà contenti gli amanti del dialettale, del rock, del beat, della canzone d'autore, è un cofanetto infatti di Vittorio Descalzi, quindi un artista che ha saputo attraversare nella sua lunghissima carriera tutti questi generi, il cofanetto è appunto una volta suonavo nei New Trolls con la collaborazione importante di Massimo Cotto, insomma una delle voci più importanti della musica italiana accanto a una delle voci più importanti del giornalismo musicale italiano. Un cofanetto estremamente prezioso, estremamente ricco, composto da due cd, un dvd e un libro, un libro di 96 pagine, ricchissimo anche di materiale iconografico e quindi foto e molto ben curato. Partiamo dai cd, allora il primo cd è una raccolta delle più belle canzoni scritte da Vittorio Descalzi per e con i New Trolls, per certi aspetti una raccolta un po' schizofrenica, perché schizofrenica è stata la carriera dei New Trolls, quindi si parte con Una notte sul Monte Calvo, che è una rielaborazione in chiave rock di un famosissimo brano di Mussorgsky, che in qualche modo risente ancora dei furori prog. Si passa quindi al rock vero e proprio del 1983 di America, ok, con il testo di Mogol, altro salto e altra svolta, il periodo pop con chiare influenze alla Bee Gees di Kei Dea, nuovamente rock di Faccia di Cane del 1985 portato a Sanremo, con una parte del testo composta addirittura da Fabrizio D'Andrea, anche se poi Fabrizio non si è mai accreditato, non è stato mai accreditato. Insomma una raccolta in cui si segue questo otto volante di tanti generi e che non può ovviamente non contenere due dei pezzi più importanti, più belli, più famosi dei New Trolls, mi riferisco naturalmente a una miniera, anche se poi tutti la chiamano semplicemente miniera, che invece risente notevolmente l'influenza di una bellissima canzone scritta da Paul McCartney per l'album Revolver dei Beatles, mi riferisco a 4 No One, l'introduzione è presa praticamente pari pari, l'altra è la famosa e anche per certi aspetti famigerata, quella Carezza della Sera, che probabilmente è davvero la canzone più famosa, anche commercialmente parlando dei New Trolls, che ogni tanto appunto viene chiamata da Vittorio Descalzi quella carogna della sera, quando un pezzo diventa così importante e poi diventa anche in qualche modo forse anche pesante per certi aspetti, come dicevo. Sono poi contenuti due inediti, Quelle Navi e Frequentatori dei Tramonti, due bellissime canzoni assolutamente nuove dedicata alla città di Genova. E poi abbiamo il secondo CD, che è un'altra testimonianza di enorme importanza, un altro lavoro fondamentale nella storia della musica italiana, mi riferisco a Concerto Grosso numero 1 e numero 2, il tentativo assolutamente riuscito di unire la musica classica con il rock, grazie all'intuizione di Sergio Bardotti, grazie alle musiche di Luis Bacalov, ma anche alle musiche ovviamente dei New Trolls, forse una delle vette più alte raggiunto dal gruppo genovese. Poi abbiamo il DVD, che invece è la testimonianza video e ovviamente anche audio di un'importante serie di concerti, in questo caso il live è registrato al Genova Teatro della Tosse nel 2005, il suonatore Jones, in cui Vittorio Descalzi per la prima volta in qualche modo si era riappropriato dai pezzi scritti per i New Trolls, uniti a pezzi invece tratti da un album strepitoso di Fabrizio De Andrè, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Poi abbiamo appunto questo importante libro di, come dicevo, 96 pagine, ricchissimo anche di inserti fotografici, ricchissimo di aneddoti e di curiosità, in cui Vittorio Descalzi racconta a Massimo Cotto un po' la sua storia, la storia artistica, ma anche la storia umana, a incominciare dall'importanza dei suoi genitori, Armanda Carrai, che era la musicista di famiglia, è con lei che suonava il piano, che in qualche modo ha instradato sia Vittoria che Aldo Descalzi, il fratello, che è uno dei più importanti compositori di colonne sonore oggi in Italia, e poi ovviamente Gianni, Gianni Descalzi, che noi genovesi chiamavamo semplicemente Da Gianni, quasi tutto attaccato, perché aveva un importantissimo ristorante a Genova Sturla, di fronte al mare, in realtà lui ha aperto tanti locali, però il ristorante Da Gianni è stato veramente un luogo di ritrovo fondamentale, dove si ritrovavano personaggi come i fratelli Reverberi, come Gino Paoli, come Luigi Tenco, che autografferà una palla da baseball a un giovane dittorio Descalzi, che la sta ancora in realtà cercando, e proprio nel retro del locale provavano i New Trolls, quindi il libro racconta la nascita ovviamente del gruppo, gli incontri importanti con Nico Di Palo, altri importanti incontri come quella con Rolling Stones, in particolar modo con Mick Jagger, qui c'è un aneddoto curioso che riguarda i pantaloni di Mick Jagger, ma non voglio ovviamente svelarvi tutto, poi i grandi successi, i grandi successi con i New Trolls e le varie svolte, ma anche i primi scazzi, i primi difficoltà, insomma sappiamo che i New Trolls sono stati un gruppo che hanno avuto parecchie difficoltà tra uscite, entrate, rientri e riuscite, per certi aspetti, io un po' scherzando dico che insomma la storia di New Trolls ricorda un po' la storia della sinistra italiana, in cui alla ricerca si è sempre la ricerca della casa comune e poi ci si scinde in partiti e partitini, e sempre a proposito del gruppo, il libro è ricchissimo ovviamente anche di aneddoti, tra cui appunto il perché del nome New Trolls, un editorio così come dire sfata alcune leggende metropolitane, o il perché oggi Vittorio Descalzi non può più utilizzare il nome New Trolls, anche se di fatto è suo quel nome lì. Un libro che però è anche legato a avvenimenti, come dicevo, personali, fatti di gioia, però anche fatti di profondi dolori, come la morte del fratello o della matissima figlia. Un libro in cui insomma Vittorio si mette davvero a nudo e ripercorre una straordinaria storia umana e artistica. Insomma un cofanetto che davvero io vi consiglio vivamente, questo una volta suonavo New Trolls con questa bellissima copertina, o meglio bellissimo quadro di Benito Merlin, Artebune, altro personaggio straordinario della Sturla di quegli anni, degli anni 50, 60 e 70, un quadro che rappresenta appunto questo clown, lui aveva proprio la passione dei clown. Io in casa ho proprio un ritratto dei miei fratelli travestiti da clown e questo quadro sarà, anche grazie all'intuizione di Gianni, proprio poi come sappiamo la copertina di uno degli album più importanti dei New Trolls senza orario e senza bandiera. Insomma questo cofanetto una volta suonavo nei New Trolls è veramente una miniera, scusa la citazione, da non perdere e da non farsi scappare. Noi ci vediamo per una prossima mini video recensione. Ciao! Noi ci vediamo per la prossima mini video recensione.